Siamo con il presidente di Ance e Siena, Giannetto Marchettini, siamo all'interno del bellissimo palazzo Bichiruspoli che è sede di Ance e di Confindustria per un'ouvertura importante, per una partnership importante, presidente. Ci racconta? Siamo molto contenti che come Confindustria e Ance e Siena in questa maniera diamo il via a un grandissimo e bellissimo evento sportivo, un'invasione che già è presente in città e noi come parte produttiva, come imprese che lavoriamo, che viviamo in questo territorio siamo molto ben contenti che accompagniamo nei vari momenti in queste lunga tre giorni tutti quanti vengono nel nostro territorio. Per noi il territorio è importante, molte imprese nostre ci abitano, ci risiedono, ci lavorano, ne traggono tutti i benefici, per noi il territorio di Siena è molto importante perché noi riteniamo che l'investimento e l'interesse sia mai vano e quindi dobbiamo alimentare tutte le varie iniziative che si fanno perché siamo abituati che si prende dal territorio e le nostre imprese prendono tanto, ma certe volte bisogna dare. Ance e Siena quindi sarà presente in modo importante per Strade Bianche 2023, nel lanciarla abbiamo coniugato l'imperativo di correre e costruire che va un po' a comunare questi due mondi presidente. Sì, ovviamente è stato un anno complicato, difficoltoso e quindi come dire, così come il ciclista si allena e dà le sue meglio performance quando è in salita o quando c'è da fare la volata, anche le nostre imprese credo che possono fare questo e soprattutto potranno prendere spunto e auspicio dai ciclisti che faranno queste cose. Quindi siamo molto ben contenti di unirci in questo assioma e questo esempio su cui noi prendiamo e cerchiamo di portare a casa il nostro lavoro di tutti i giorni. Tra l'altro presidente diamo appuntamento a tutti perché voi avete proprio uno stand all'interno della cittadella che verrà allestito in fortezza. Sì, noi abbiamo, ripeto, per noi è molto importante, le nostre imprese dell'edilizia sono attive sul territorio. Per noi quando si parla di preservare il nostro territorio vuol dire costruire bene, costruire con attenzione perché sappiamo molto bene che siamo attrattivi e posso dire che gli investimenti che ci sono in questo momento sono ancora importanti su tutta la nostra provincia. Le nostre imprese hanno commesse importanti per investitori da tutto il mondo che preferiscono ancora oggi investire in Toscana e soprattutto a Siena e nella provincia. Quindi per noi ovviamente è molto importante perché ci saranno le nostre imprese che spesso sul territorio sono quelli che traducono questi sogni, questi desideri che hanno gli investitori e che ovviamente si concretizzano in casolari, poderi, appartamenti in centro storico che hanno bisogno di una mano molto raffinata e tecnica e brava delle imprese di costruzione. Marco Sorosino, allora l'importanza di questa overtour, stasera siamo con gli amici di Ance che hanno sposato per la prima volta il vostro progetto, il vostro grande progetto Strade Bianche, un progetto dalla crescita esponenziale. No, siamo contentissimi di essere qui e ringraziamo Ance, il presidente, insomma tutto il team perché ci piaceva iniziare questo lungo weekend delle Strade Bianche qui e raccontare un po' quello che succederà, i numeri, l'impatto che questi eventi che crescono sempre di più, sia la gara professionistica sia la gara amatoriale, possono portare a una città splendida come Siena. Strade Bianche 2023, ci dai qualche anteprima? Beh, allora la gara professionistica è penso già in questo momento una delle gare più belle al mondo, unica, è corsa dai più grandi corridori, negli ultimi anni ci ha dato tantissimi risultati eccezionali. Quello che cresce sempre di più è anche l'aspettativa degli amatori che la domenica partono 6.500 quest'anno, il record di tutte le edizioni, che si affronteranno e sfideranno, proveranno ad emulare i campioni del sabato. E poi la grande cittadella dell'evento che sarà abbracciato dalla Fortezza Medicia? Assolutamente, la Fortezza è un po' la nostra location base, dove parte la gara pro, dove c'è il villaggio degli amatori, della Gran Fondo, è un po' il nostro cuore di tutto l'evento e lì ci saranno tante attività, tanti ospiti, insomma tante presenze. Siena, capitale del grande ciclismo con Strade Bianche 2023, sindaco, una bellissima occasione per la nostra città, una grande realtà che ha sposato il nostro territorio. Siena, sì, è una realtà che ormai si è consolidata, è diventata una tradizione e quindi a Siena quando si parla di tradizione si parla di continuità storica e al di là di questo, che è importantissimo, c'è anche ovviamente un evento sportivo di grandissimo livello, stiamo parlando delle classiche del sud dell'Europa, come le classiche del nord, è stata usata questa terminologia. E quindi mi pare che meriti davvero la grande attenzione, la grande soddisfazione e anche il grande agonismo che vediamo sempre e soprattutto devo dire che tutte le volte che colgo l'occasione per guardare qualche ripresa, devo dire che questa città è telegenica, è fotogenica, perché è bella di suo, ma anche perché davvero in ogni sua parte raccoglie delle ricchezze, nasconde delle ricchezze che spesso noi siamo talmente a suoi fatti e abituati a vedere il bello che qualche volta ci passa davanti senza quasi vederlo. Invece tutte le volte che lo vediamo in televisione o lo vediamo anche in qualche spezzone di qualche film ci stupisce la città e quindi da questo punto di vista è uno straordinario spot, sia per lo sport, sia per la socialità, sia anche per la nostra tradizione. Elisa Romei, la titolare di Siena Wine Service, stasera presente per questo connubio che vede Ance insieme a Strade Bianche, protagonista ovviamente del nostro territorio che ovviamente produce grandi vini che lei conosce bene. Sì, io sono molto fiera, molto contenta insomma stasera di partecipare, di presentare, offrire diciamo questo opening di questo importante, per questo importante evento, evento che lancia Siena nel mondo. La mia attività, Siena Wine Service appunto si occupa di enoturismo, ma soprattutto come definisco io di cultura del vino. La nostra città è al centro di denominazioni di eccellenza enologiche insomma e credo che sia veramente fondamentale spingere questo settore che ritengo centrale per il futuro della nostra città, ma soprattutto fare cultura, cultura del vino, insegnare alle persone a bere e capire che cosa bevono, perché come dico sempre io, dietro a una bottiglia di vino c'è storia, c'è cultura, c'è territorio, c'è racconto di persone che lavorano e quindi insomma sono molto molto contenta e ti ringrazio e insomma spero che sia una bellissima serata.